Van Gogh amava la zuppa di piselli e se fosse vivo la getterebbe sui suoi quadri. Facciamo un passo indietro. È normale incollarsi le mani alla primavera del botticelli o gettare della zuppa di pomodoro contro i girasoli di Van Gogh? Non è normale, è straordinario. Se fosse normale non avremmo bisogno di queste dimostrazioni. Per fortuna ci sono quelle ragazze e quei ragazzi, quegli attivisti così anomali, rispetto a lasciar perdere, così svegli, rispetto al sonno della ragione. A me sembra così evidente. Le vostre azioni non sono mai state a danno dell'arte, ma alleate della sua bellezza. Perché nessun quadro in questi mesi ha subito alcun danno, ricordiamolo. Hanno usato la zuppa solo contro i vetri protettivi. Si metta l'animo in pace Giorgia Meloni che parla di vandalismo. Le persone per bene sono terrorizzate dai cambiamenti climatici. I morti e i logolati si accasciano sull'esistente. I sognatori invece sono i più concreti fra i visionari. Sono la cintura di trasmissione fra l'impossibile e la sua costruzione. Grazie ragazze, grazie ragazzi.